Oltre ai colori amaranto, a partire dalla stagione calcistica 2013-2014, il città d'Arezzo si è tinto di rosa. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di aprire le porte dello stadio cittadino di Arezzo alla squadra femminile di calcio della Stella Azzurra. Una novità per le ragazze di Mister Pedalino che va ad aggiungersi ai successi ottenuti lo scorso anno, con la vittoria della Coppa Toscana e la conseguente promozione nel campionato nazionale di Serie B. Giocare in questo impianto rappresenta sì onore e prestigio, ma per quanto ci riguarda e mi riguarda personalmente anche una enorme responsabilità che sento. E quindi mi auguro che la squadra trasmetta altrettante emozioni a chi verrà a vederci sentendo la responsabilità che ci deriva da giocare un impianto simile e da fare in modo che anche il calcio femminile possa dimostrare a tutti gli sportivi il suo valore, la sua valenza, le sue aspettative e quanto sia piacevole andarlo a vedere alla domenica. Nata nel 1997, la squadra di calcio femminile fa parte dell'omonima polisportiva di Ponte alla Chiazza e nello specifico questa attività sportiva ha assunto l'attuale struttura cinque stagioni fa con l'ingresso in società del direttore generale Claudio Chiarini che ha affiancato il direttore sportivo Omar Neri. Insieme hanno ristrutturato l'intera attività femminile creando una squadra che ha prima vinto il campionato di Serie D e che poi di stagione in stagione è cresciuta sempre più fino ad arrivare ai recenti successi. Un lavoro che acquista ancora più prestigio se si pensa alle difficoltà che il mondo del pallone rosa deve affrontare. Ad Arezzo l'utenza calcistica femminile non ha un gran numero chiaramente per esaudire quelle che sono richieste di una squadra composta da almeno 18 se non più elementi, gioco forza, dobbiamo andare a cercare le atlete che chiaramente hanno la possibilità di ben distinguersi, ben figurare in questa categoria anche in località fuori Arezzo. Il calcio è uno sport prevalentemente rivolto all'universo maschile. Cosa spinge dunque una ragazza ad avvicinarsi a questa disciplina? La mia passione nasce da quando ero piccola, quando ho seguito mio fratello in una squadra maschile e poi arrivata a 14 anni ho dovuto cambiare e sono approdata prima a Firenze e poi alla Stella Azzurra negli ultimi 4 anni. Lo fai per passione e quindi anche i chilometri non ti fermano, insomma lo fai molto volontieri.